Trigno è uno degli allievi più amati di questa edizione di Amici ma non è affatto sconosciuto al pubblico italiano Ecco cosa ha fatto.Il famoso talent show, condotto ormai da anni da Maria De Filippi, ha preferito sin da subito catturare l'attenzione del grande pubblico I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, nell'attesa di scoprire tutte le sorprese e i vari colpi di scena che vengono svelati ad ogni episodio Nel corso degli anni, sono stati numerosissimi i talenti arrivati in studio per mostrare a tutti le proprie capacità artistiche Tra questi, ad attirare l'attenzione è stato anche il giovane Trigno, che ha lasciato senza parole per il suo talento ma anche per la sua bellezza Chi è Trigno e perché è già famoso.Questa edizione di Amici ha già conquistato i cuori di migliaia di italiani per i talenti che sono arrivati in studio e che si stanno ora mettendo alla prova nella scuola d'arte più famosa della TV Tra questi, è appunto arrivato il cantante Trigno, il cui vero nome è Pietro Bagnadentro e che ha oggi 22 anni Pietro ha sicuramente colpito tutti per le sue doti canore. Ma anche per la sua particolare bellezza Sono insicuro di me stesso, delle mie doti, delle mie qualità, ha detto lui nei primi giorni di talent, non mi sento mai abbastanza Sono la pecora nera della famiglia. Sulla sua vita privata, non si hanno molte informazioni ma si sa che dovrebbe essere single, anche se alcune indiscrezioni hanno parlato inizialmente di un presunto flirt con la ballerina Teodora durante i casting del programma Il suo nome non è inoltre affatto sconosciuto nel mondo discografico dato che, nel 2020, ha firmato con l'etichetta indipendente di Francesco Focchinetti e ha pubblicato i singoli Lento e Conto su di lei L'anno successivo, ha invece fatto uscire le P19, seguito dal brano Casino La musica ha insomma sempre fatto parte di lui, e il cantante è diventato oggi già molto amato dal pubblico di Amici Nel frattempo, sta crescendo sempre di più l'attesa per i prossimi episodi del famoso programma, che ha in serbo per i fan già numerose sorprese e tantissimi colpi di scena C'è da dire che, nello studio televisivo del programma artistico, le novità sono sempre dietro l'angolo e che Maria De Filippi continua a sostenere, come ha sempre fatto, tutti i ragazzi che partecipano alla trasmissione Ciao